Robert Cate, ho 18 anni. Andrea Di Salvatore, sono nato a Torino e ho 23 anni. Walter Prete, 25 anni. Francesca Lucia Perrone e ho 24 anni, quasi 25. Da sempre ho avuto questa passione per la recitazione. Sono appassionato di teatro da più o meno 5-6 anni, però mi piacerebbe anche lavorare nel cinema. Ho una compagnia di cui sono socio fondatore e da quest'anno abbiamo aperto un piccolo teatro in provincia. Sono un'attrice, ma preferirei operatore teatrale, in quanto l'operatore teatrale si occupa a tutto tondo di quello che c'è dietro il teatro. Il teatro apre al pubblico principalmente una visione di diverse culture, di diversi popoli, di diverse etnie. Ti apre nuovi mondi e riesci a capire in profondo le diversità. Senza però magari neanche andare a dividere quello che effettivamente è il teatro, quindi lasciare, non lasciare questa divisione, però questo senso di mistico e di segreto che c'è dietro il teatro, che magari molta gente viene anche per questo, per il fascino che c'è dietro il teatro stesso. Probabilmente il teatro di un domani, non necessariamente di domani, deve essere invece qualcosa che porta lo spettatore a cambiare il suo atteggiamento nella vita appena fuori dalla sala. Per essere più vicino alla gente bisogna partire da quelle che sono le basi e quindi magari cominciare a divulgare l'arte teatrale dai bambini e magari a partire proprio dalle scuole. Oggi invece i giovani forse preferiscono una recitazione teatrale basata su temi attuali, poi non lo so, razzismo, droghe, musica. Alla gente sicuramente piace ridere, come anche a me. Cioè a me piacciono molto i spettacoli comici, ma anche le tragiche medie, tipo quelle di Beckett. Quindi vuole dire, secondo me, il comico per ora è quello che potrebbe far andare avanti il teatro. Sempre preso comunque, cioè diciamo utilizzando una morale, quindi non andando a fare una comicità stupida, ma utilizzando una morale. Probabilmente la cosa che più spiazza il pubblico, la gente, oggi è non riuscire a contenere tutti i dati della complessità nella quale viviamo. E probabilmente il teatro è un luogo in cui c'è una giusta distanza per vedere tutto questo e capirlo, cercare di capirlo meglio, ma è anche il luogo in cui questi fenomeni, una volta compresi, possono essere agiti diversamente nella realtà. Magari il teatro potrebbe essere ancora più utile, cercando di coadiuvare lo studio e quindi la didattica che i bambini affrontano giornalmente a scuola attraverso l'arte e il gioco del teatro. In una piazza, in un bar, va più che bene. Anche a casa di qualcuno, è un intrattenimento. Nelle piazze in mezzo alla gente, dove comunque c'è la vita quotidiana, dove la gente passa, quindi poter stare a contatto con la gente di tutti i giorni. Ovunque, ovunque. Si può fare nelle piazze, si può fare nelle strade, nelle scuole, ovunque. È come entrare in un tempio, molti non lo fanno, semplicemente perché si considerano profani. Invece magari in quel momento, in un momento in cui il teatro arriva alle persone, nei luoghi delle persone, lì si può stabilire una vicinanza che invece magari è difficile avere in un teatro. Abituandoli al linguaggio teatrale e soprattutto facendogli capire che il teatro può essere qualcosa di utile, non solo a livello etico, morale, ma anche magari utili alla loro crescita, praticamente, magari possono rivalutare questa arte. Grazie. 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 Grazie.